Enrico Miglioranzi, domani il golzano ha la sfida a Klagenfurt, sempre un ghiaccio difficile che i Foxys però sono già riusciti a violare in questa stagione, quale sarà la ricetta per farlo di nuovo? Penso che dovremo un po' ripetere la partita che abbiamo fatto la scorsa volta a Klagenfurt, quindi giocare bene difensivamente prima di tutto, cercare di evitare al massimo le penalità perché sappiamo che loro hanno veramente un buon power play e poi sfruttare ogni occasione che ci daranno, però sicuramente sarà una partita chiusa e stretta come spesso succede contro di loro. Ed è una partita molto importante per la classifica, Bolzano ha guadagnato per la prima volta in stagione la top 6 dopo lo scorso weekend, adesso però l'obiettivo è tenerla, cercare di scalare ancora la classifica e Klagenfurt è una di quelle squadre che è proprio in lotta per queste posizioni. Sì, penso che l'obiettivo primario quando è arrivato Glenn, che ci siamo posti, era quello di entrare più velocemente possibile nella top 6, nonostante il filotto di vittoria che abbiamo annellato abbiamo visto che ci ha voluto diverso tempo prima di entrarci, però adesso che siamo entrati vogliamo restare là e anzi cercare di entrare magari anche nelle top 4 o top 3 perché sarebbe fondamentale anche per un fattore di questione del campo per i playoffs, però questo è ancora troppo distante da adesso, quindi cerchiamo di stare più attaccati alla top 6, di restare dentro e poi entrare magari anche nella top 3. You know, they're a good team, we've been playing well lately, we're going to go there, try to have another good game. Earlier in the season, I think they beat us at home, we beat them in their rink, so it's going to be a good matchup. They play in aggressive style 4-check, they pinch a lot, so we've been working on some stuff this week in practice to go over that, to get ready for them. So, and the last weekend the Foxes were able to get the top 6 for the first time in this season, now the goal is to keep it, to move forward. And Klagenfurti is one of the main opponents for this goal. Yeah, I think they're just ahead of us, they're maybe two spots ahead of us right now, so in order to keep climbing in the standings, we've got to beat teams who are in front of us, it's simple. So, we've come a long way from how we started the season, we're in a spot that's, you know, decent right now, but we've got a lot of work to still do. So, we've got to continue to beat good teams every night, play our best and climb the standings right till the end. So, we've got to keep going.